Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio di Serie C e dello storico derby tra Pescara e Pineto. Primo stop in campionato per i biancazzurri di Zeman, ma a fare il punto in diretta con noi è Massimo Profeta. Massimo, a te. Sì, grazie, grazie Gigliola. Un saluto a te e a tutti gli amici in visione all'ascolto. Il primo stop in campionato è stata una serata da dimenticare sostanzialmente per il Pescara perché comunque era una partita importante dopo il blitz di Ferrara. Tra l'altro è una partita che abbiamo trasmesso in diretta a Reteotto. Insomma, c'erano tutte le condizioni per assistere a un'altra partita importante. Invece è venuto fuori il Pineto che non ha rubato nulla, ha fatto un figurone. Certo, il Pescara ha anche creato un paio di opportunità, tre anche, diciamo, se consideriamo il secondo tempo, piuttosto nitide. Ma ha fatto la stessa cosa nel primo tempo il Pineto e poi c'è stato il gol che ha deciso il match. Un infortunio, purtroppo, il brosco capita anche ai migliori. Ha sfruttato con grande cinismo, con grande spettatezza proprio, se possiamo dire così, dal giocatore del Pineto che era appena entrato sul terreno di gioco, vale a dire Gambale. Ora, naturalmente, si pensa al prossimo futuro che si chiama Vis Pesaro. Vis Pesaro è una partita che si giocherà proprio lunedì prossimo alle 20.45, un posticipo. Ci sono delle notizie importanti. Quella, diciamo, più rilevante riguarda le condizioni gigliola di Simone Franchini. Simone Franchini che ha completamente smaltito l'infortunio di natura muscolare, patito lo scorso 19 settembre nella trasferta di Carrara contro il Sestri Levante. Tornerà a disposizione a questo punto di Mr. Zeman per la partita del lunedì. Vediamo però anche la situazione dei nazionali. A Cornero è un nazionale under 20. Domani giocherà a Catanzaro alle 18 contro la Polonia. Dunque sarà a disposizione di Zeman perché subito dopo tornerà a Pescara. Tugniew invece avrà due impegni. Il primo, valido per la qualificazione dei prossimi campionati europei con la sua nazionale, la nazionale Estone. Domani giocherà contro l'Azerbaijan alle 18. Mentre martedì prossimo, dunque il giorno dopo, Pescara-Vispesaro dovrà affrontare con la sua nazionale in amichevole la Thailandia. Quindi è partita la richiesta, questa è un amichevole, quindi è partita la richiesta del Pescara alla Federazione Estone proprio per cercare di far tornare in anticipo Tugniew. Si attende ancora la risposta della Federazione Estone. Per quanto riguarda invece il difensore Staver ha due impegni importanti con la sua nazionale under 21 Moldava e dunque non sarà a disposizione di Zeman per la partita. Con la Vispesaro ricordiamo in programma lunedì prossimo 16 ottobre con inizio alle 20.45 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. La notizia di oggi è il rientro in gruppo di Simone Franchini che tornerà tra i convocati per il prossimo match, ripetiamo ancora una volta, a Pescara-Vispesaro lunedì alle 20.45. È tutto per il momento, la linea può tornare a te.